musica Sì, perché c'è l'archetto qui. Esatto, e poi entremetissero mezzo sotto comunque c'è anche la porta. Il sacro c'è la luce di casa. Per dubbio. Inizia a Milano avevano la telefono che sono andata a fare un piatto per essere dei numeri. Sì, e quindi poi mettete le puntelle. Ora invece non c'è la città, non c'è la città, ma non c'è la città. Non c'è la città, non c'è la città, ma non c'è la città. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.